Il Signore è innamorato della nostra piccolezza, la sua misericordia non ha fine. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, alla quale hanno preso parte anche i cardinali del Consiglio dei Nove, che hanno iniziato oggi la loro dodicesima riunione. Commentando la prima lettura, tratta dal libro di Zeia, il Pontefice ha spiegato che Dio ha scelto il suo popolo non perché fosse grande o potente, ma perché era il più piccolo e miserabile di tutti. Poi ha ricordato un santo che faceva molte penitenze, ma il Signore gli chiedeva sempre di più, fino a quando gli disse che non aveva più niente da donargli e Dio gli rispose, dammi i tuoi peccati, perché Dio vuol prendere su di sé le nostre debolezze e darci pace con le sue carezze. Noi che siamo tanti nervosi, una cosa non va bene, sgridiamo, siamo impazienti, invece lui stai tranquillo, hai fatto una grossa, stai tranquillo, non temere, io te perdono, dammela. Questo è quello che significa quando abbiamo ripetuto nel Salmo il Signore è misericordioso e grande nell'amore. noi siamo piccoli. Lui ci ha dato tutto. ci chiede soltanto le nostre miserie, le nostre piccolezze, i nostri peccati, per abbracciarci, per carizzarci. carizzarci. l'amore, l'amore, la loro miserie, l'amore, 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 l'amore. Grazie a tutti.